a I think it's killed so E' troppo poco Eh ma mi sa che lo devi spiegare Non ho fatto nulla, gli ho disvenenito, non è possibile WTF WTF Questi mi sa che sono più bimbiati Non si spiega Che cazzo Devo allenarli mi sa che Ciao vita Mi sa che non posso farlo però lo devo allenarli Questa è un interesse 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 A l'aino non lorerà Aiuto65 Se io do sta cosa Le metto ma non c'è sa quell'acqua le signore ha voluto ma da pochissimi e per non usare l'energia ho capito il senso ho capito il senso non è così molto non c'è 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 Ma che cazzo sono? Va bene Un attimo Voglio capire se c'è un modo di cambiare la run tool Voglio capire se c'è un modo di cambiare la runa Non ho capito sta cosa però vabbè E perchè è sbagliato? Va bene poi controllo però non lascio vedere No perchè ho fatto... ho superato un TP rob Un altro studente di trasferimento di nuovo Sono sorpreso quanto vuoi Black Questa è la prima volta nella mia carriera che ho avuto Più di due studenti in un mese Lasciando perdere una settimana Quindi è la prima volta che succede Andiamo avanti il motivo perchè Ve lo sto dicendo in anticipo questa volta Perchè il vostro compagno di classe E' un po' Ha una strana condizione Non sono si stupidi clinicamente come te E' abbastanza E' abbastanza Voi che tutti voi vi comportate al vostro meglio Capito? Il vostro compagno di classe è timido Puoi esprimersi solo attraverso la scrittura Per favore Quindi è venuto Vedete la mente E non... L'ignorata Non isolata Spero che sia stata cara Potete venire a mezza Puoi... 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 Puoi entrare a midnight Sì Sì Ho sentito tanto Dite a midnight Se vengono andata nella classe Puoi prenderti la sedia Poi prenderti la sedia Senza prendere altro tempo Cominciamo Oggi saremo la taffetteria Ok Altro studente E a parlare Vediamo C'è questo Sembra fissare il tavolo Forse il giorno mangerete insieme E' Seate E' Perfetto C'è C'è Demontare Intanto lui non lo cambia, facciamo la speed e la tempo a spiegare al massimo. Ok la speed era d'Argos. Anche le bacche per togliere per esempio le altre V, non ci servono. Sì sì, sei tu che sei rimasto indietro. A seguente possiamo ripulare la difesa al massimo. Eh ma non posso sistemare tutti. E' giusto, è giusto l'audio. Perché fate sempre sta cosa? Già l'ho abbassato un'altra volta. Si sente, si sente. E' giusto. E' giusto. E' giusto. E' giusto. E' giusto. E' giusto. E' giusto la misma. E' giusto... Com'è, qui ho soprattutto posto? qualcun lì ahia che dario nooo non è morto ma che dici? che non hai mai detto non ti ho mai detto di aspettare se devo aspettare te finivo fra dieci anni un gioco hai capito cosa ne abbassa cosa vuoi andare? e vabbè ciao buonanotte sei tu che non ci giochi il tempo che tu che fai il rango lì che è quello più scherzo questo io ho cominciato a donare la seconda run guarda questa guarda questa ma che dici questa qua? che scena attualmente? ma che dici? ma che dici? che scena che c'era Ah, e ora lo vediamo, non lo sentito bello. Questo qui? Sì, è carino questo, non lo so se non ho preso qualche altro gioco originale. Quanto è uno skill? 45. Eh, ma l'azienda rotta di quale? Ce ne sono due. Un è su Smeralde. Un'altra cosa è su diamante e perla. Ma per un attimo ti sei andato il bug di... Scusami. A me quinta... Qua sta... Qua sta il genere... Sempre questa il genere... come hai visto l'azio? blake come viene saluto ciao come sei che amo C'è una questione di Smeasol l'altro, rotta l'elenare per forma insegura, perchè loro siamo pioggia, si la run è cattiva, non avevo salvato la roba, entro, qualcuno ha perso il toccato, ah non l'avevo salvato, ma la squadra è uguale, ma si è venuto la scorsa volta, te l'avevo fatto già vedere, quale è uguale, il tonto coso, il coglione di luogare a te, ah no, ho salvato qui, ormai non mi rendo conto qua quando sono, chi è questo, non lo so, andiamo a vedere, tutta lente, no, non volevo sapere, sto strabursando, con le messe, no, ho detto dopo la faccio, mi ha fatto pure confondere, sono andato non il primo run, non ho fatto la seconda run, ho detto il tempo che tu vai avanti, non ho la tua prima run, non ho fatto ancora run con te, io ho già fatto la seconda run, ho cominciato la seconda rana mi sa che il capitolo nooo io ancora sono alla prima rana è lunga, sono al rango A si, si, se ne preoccupami al vento a quanto questo non mi parlo guarda un problema, salgono il set si, quasi, secondo me c'è la parte più difficile le mosi sono fatte più difficile di tante che battaglia altro che quasi di mito ancora il rango Aro ho cominciato oggi io lo conosco molto bene ma io ho visto la differenza non c'è sono tutti evati e invati che già si vede gli amici sono diventati troppo più forti uno spike gigante c'è senso ma va ma non è che dipende solo da quello alla fine del gioco può dipendere da tante cose sei e mezzo sei e mezzo perchè non me l'aspettavo un farming simulator semplicemente perchè un farming simulator la storia è pochissima e sei sempre nei stessi e costi è diventato un farming simulator non c'è altro modo mamma mia l'interno ha fatto ma questo che gli faccio e vabbè eh vabbè guarda che un torrello che cazzo ma che danno hai dei volte switch e vabbè ho perso anche se questo con elmsmash lo facciamo voglio non ho fatto che merda che merda te che mi racconti invece che combini parole che combini parole non è molto diversa da come si chiama quel gioco l'arrivo ma troppo almeno là c'erano piccole zone dove viaggiarli mi stavano per giocare ultimo pokemon per giocare e 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 ma l'ho cancellato ah felinxanne qua adesso non c'è scritto un po' mi ha scordato tutto il nuovo felinxanne non c'è vabbè mi si è preso una settimana quanto gli si è preso abbassiamo l'audio ma c'è bisogno di abbassarlo ancora non c'è abbassato il basso di basia non lo posso mai mettere c'è quanto lo devo mettere ok ero qui ok ero qui ok ero qui pensavo proprio come dove si racconta com'è che fai com'è che fai questa pedologica questa cosa pedologica ma che speed aveva poi la choice può essere la scarf quella per la speed non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non controlli i giochi di super Mario ho visto il primo trailer mi ricordo è il primo primo di ma io non l'ho visto qua è stort cos'è questo che sto ah è questo qua che non mi interessa questo sia stort basta che è dritto questo non c'è non c'è però non c'è non c'è non c'è non c'è se non c'è no non c'è ma non c'è Sì! La kill prima di morire. Boh, non lo so. Viene cazzato, non lo so. Un gioco da Super Mario da Nintendo DS, per favore. Poi te non ce l'hai la Switch? C'è la Switch, ormai. Da quando è la Switch? Non lo so, non lo so. Oh, non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Quanti monti c'ho? 66 euro, a stage lo possiamo sbloccare? 66 euro, a stage lo possiamo sbloccare, non lo so, perché vuoi farlo, dimmelo tu perché vuoi farlo in realtà. Non me lo chiedo nemmeno, perché vuoi fare? Ma poi tu non volevi cominciare a giocare a schiacchi? Sì, ne dici tante, forse l'ultimo mi manca. 60, manca l'ultimo si. Poi l'ho sbloccato la televisione e poi l'esploriamo. Fa bene, le la fa bene, le la. Fa bene, le la fa bene, le la fa bene, le la fa bene. Fa bene, le la fa bene, le la fa bene. Fa bene, le la fa bene. per i maxali sono l'attacco ma non ce l'ho più per l'attacco non ce l'ho più attacco spregione difesa non l'attacco i formigli li ha maxati voi però poi dobbiamo trovare come hanno un libro ahhh voglio capire il tipo di trucchi non è vero l'attacco trasfrontalmi ah Perché mi ha parlato? Ok, lì c'è Ok, lì c'è lì andiamo in shot dai immaginamente 7 mila va andata è poco e manca è poco e manca assai in realtà sono tanti i soldi non ci vanno anche in realtà questo giocatore non è quello il problema quant'è il gioccio? 60 ancora allora poi questi li allena li alleniamo un po' con il col briss è una misciotta comunque ecco è arrivata in avanzata direttamente abbiamo non voglio perdere 10 mila botte cosa che vuole quando non lo metto il cazzo di entri ma un libro per cosa? hai visto? per i trucchi da ogni scacchi per cosa? per imparare strategia si ho cambiato si ho cambiato te lo dico per cosa? per imparare strategia ecco e di smash per 4 e comunque non lo mettiamo io ma ci hai shottati? come è possibile? come è possibile? vabbè intoccabile volcano già abbiamo capito intoccabile è diventato un po' più difficile nel gioco eh già gradualmente sta diventando più difficile ma è una roba assurda questi sono i buddy buddy tutti sicuro eh questo è un problema eh questo è un problema devo diventare non si fa diventare non si fa e comunque non faccio voler Mentre non l'ho più giocato questa, quindi... Manco aperta, mentre alleniamoli qua nel bis Non mi ricordo dove c'erano, diciamo di 3 Ma non c'erano Mi potrò dare la chi è il gol Non so se c'errebbe Non so se c'erano Non so se c'erano Non so se c'erano Vabbè, non lo so dove potresti trovarli, ma penso ci siano dei ritrovi dove poter giocare a piastro e comunque un altro. E' ora impararli. Eh, ma questo usa proprio l'amico e l'ottorio. Ma perché non sono più valori? Ah, ho stato probato, più coglioni. Qui però non devi messare. Ho messato di nuovo! Eh, vabbè però, eh, tu coglioni. Eh, quello non te lo so dire. Le questioni è anche di bravura, avere un profumo che ti consiglia e intanto impari un deck. Anche se magari non è il più forte del mondo, magari non è nemmeno il più complicato del mondo. Un deck base che ti aiuti a capire tutte le meccaniche. Quanti nel. Vabbè! 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 Eh sì, è un hobby abbastanza costoso Vabbè, dipende che te che c'hai, non è che tutti i deck con le giornate Dipende che te che c'hai Mi ricordo se il sabato c'è la lezione Ok, non il sabato è niente Non è che non è ricombinato per forza sempre, dipende, dipende qual è il map di solution map Tutto a aspettare Eh, ho detto che le mie expansioni sia buone Qu'è? Grazie a tutti. E' quello che cerco, questo lì. Io mi ricordo che una volta l'avevo trovato, ma forse sono io il mio sogno. Per questo qua serviva energia. No, non Dynamox, che non ce l'abbiamo. No. Ah, dovrebbe essere forse Dynamox. Beh, normale. Ci prendiamo di sicuro Greninja. E' proprio di una stravolta un Nether. E' buh, non lo sembra. No, non lo sembra, non lo sembra, non lo sembra. No, non lo sembra, non lo sembra. No. 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 Ma. idrobomba e pinghanger che fa rollplay? no che ce l'ha lui rollplay no non c'è da bollo ovviamente no tu hai scegli la mossa e non puoi tornare indietro che cazzo perchè ho usato la bomba sul granillo ancora? io sono scema ma il giro è un altro è un altro ah non ma è impossibile come ha fatto il tizio che ha detto è riuscire a superarlo, non c'ho un po' l'ho detto è un npc sempre da misti, è la migliore misti è ancora chiuso, dobbiamo dormire qua, facciamo dormire un attimo quale è il tuo personaggio femminile preferito? di bokemo misti è una delle mie preferite sempre se c'è ancora non c'è un zannic non c'è un zannic serena ah serena vabbè serena è unica la singa è noioso in cumulo mi fa cagare ma perché c'è sti due singa vabbè ce ne sono altre c'erano come chiamano era su x e y guarda lo dico non so se era su x e y no e su quale gioco era? era sul sole e luna? era di tipo volante? no non era sul sole e luna e allora su quale era? era la quinta genna? ah anemone anemone era tanta roba il begamenti è troppo scontato intendevo anemone quella che ha la tua porta te la ricordi? quant'è nessuno c'è rimasto? penso a zero valenti vabbè pure camelia è tanta roba e camelia è pure meglio di di io devo salire di camilla camilla è overrated è super overrated no devo dare il lunedì che non mi ricordo camelia è super overrated si è sicuro ma è super overrated ha una volta il trio personale giugale che è camelia e l'altra è quella con la giovane sull'XY dell'Aronagen c'è la polla la che non mi ricordo come si chiama aspetta l'Ilik ok questa non la conoscevo non mi fa cagare una vecchia ecco chissara no chissara e basta penso che sei solo lei l'unica se chissara non mi fa cagare è mai l'unica carina non è che non è mai l'unica carina non è che non è mai l'unica carina vabbè non è perchè è spionato una streamer vabbè non è perchè è spionato una streamer no semplicemente ho fatto non mi ricordo come ho fatto il design che è spionato l'altra che era spionato era sul sole o l'una l'altra che si chiama era su XY o sul sole o l'una? maybe semplicemente lo ha riuscine lo so l'una se fioniste le metà lo fa chissare il cremo semplicemente lo ha riuscine lo so l'una come si chiama alla si ma siccome lo scoff Ah, il dov'era allora? C'era un altro che ci somigliava a Camille Vabbè Mammole di questo No, non l'ho vista Ah, mi sembra che c'era un altro che so Aveva anche l'anima, aveva un problema di sora con il don Più ragazze diciamo che è donna La teenager Questa è un altro che legge sempre? no che vuol me lo voglio e lei è infattibile che non ti voglio dire vabbè ma che devono è? ma poi mi è entrato uno vabbè è entrato uno sempre senza pioggia ma che usa questo? ma che cazzo è? è entrato uno tre volte di fila senza pioggia 70 di precisione questo è normale? oh la balena anche quanto è fatta grosso qui bello Weylord e io faccio le lancse scissor? eh si mi ricordo che acqua nel giorno non c'hai roba c'ha un kick ha battuto ma riusciamo a vincere qualcosa? sono troppo forti c'è c'è non c'ho pokemon scherzi eh no qui è stato per sbagliare c'è c'è il mio porigone è mezzo illegale intanto c'è il mio porigone è mezzo illegale intanto c'è il mio porigone non c'è il mio porigone non c'è lo pericolo non c'è cosa dovrei usare che culo ma questo non lo faccio un vuoto nooo perchè dammi vincere ci ha livellato anche lui se vuoi via merda ancora peggio se vuoi non li livellavo ah l'ho rinforzato vabbè questa volta vinciamo ok 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 ma questo ce ne ha tutte le forbe grazie al cazzo mi fanno i dati a ok ora le rinarei aiutano ok 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 basta ah la braccia è dura ma dove saranno hardstone quanti ne abbiamo? 31 dai oggi dobbiamo bloccare tutte le aree per forza per forza voglio dire per forza ma conosci quello ora conosci con la chiedazia 1 contro 1 contro 2 questa che aveva cosa è questa ah è quella dei primi ma è figa sto adesso eh ma dovresti secondo me è meglio se cominci con qualcuno che ne sa se conosci qualcuno che ne sa non 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 ma non 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 se non è nessuno è un po' più difficile se c'è qualcuno con cui giocare che ti insegna magari le basi meglio sarebbe meglio sennò devi imparare tutto da solo e ci metti più tempo pure cosa ci va da 40 minuti questo che tipo qui era? overkill qui si chiama overkill ma è un gioco di parole vero? tipo overkill oh e qui il fish è tipo overcheck che è troppo pesante io devo leggere, ma che intendo a terror soltanto leg invece vedo link non ha levitate 3 no però abbiamo messo auto 1 questa ha levitate 3 che bene ma che dobbiamo fare come faccio a vincere? vediamo questa cosa hai shotto tutto forse posso farci se è più veloce è la claccia la claccia accOOM att 7 se tu qualcosina più di me la sai io non so che altro io diosina ci sono le energie per attaccare cioè più o meno in realtà qualcosina mi rimane da solo è morto questa è lei mi senti molto questo non mi ricordo che tipo è mi salto è bello è buono bottiglia è il veloce ma c'è andato giù pensavo se è il veloce forse quasi non ho passivo la chat e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 il nostro corso gratuito è realità Prende la vostra l'ambiente Ahia Ah non andrà mai amissati Non è che via Quanto è giro Non posso andare ancora a dormire. Quarantasei. Che dobbiamo iniziare l'ultimo metro a rotto. Oh. Lkämpico. Che merda , è che bencherzibo che... i i i i no 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 oh i 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